E' stata confermata dalla prima sezione della Corte d'Appello di Palermo la condanna a 30 anni di reclusione a uno degli organizzatori del Viaggio della Morte, costato la vita a 366 persone il 3 ottobre 2013 a Lampedusa. Si tratta di Muhammad El-Mimudin, cittadino somalo, che è stato riconosciuto e accusato dai superstiti del naufragio nel centro di accoglienza di Lampedusa di averli sequestrati nel deserto e di essere quindi un membro dell'organizzazione criminale che ha organizzato il Viaggio della Morte. Il somalo è stato riconosciuto colpevole dei reati di tratta di esseri umani, associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reato di violenza sessuale. La sentenza conferma anche la provisionale di 20.000 euro in favore del comune di Lampedusa e Linosa, costituitesi parte civile. La conferma della condanna, dichiara in merito il sindaco Giussi Nicolini, fa giustizia almeno della crudeltà mostrata da Mudin nei confronti di quei giovani eritrei che ha sequestrato nel deserto delle trutture inflitte agli uomini e degli stupri commessi sulle donne. Lo straordinario lavoro svolto dalla procura di Agrigento, aggiunge Nicolini, è inoltre un importantissimo straziante documento sui viaggi a cui sono costrette migliaia di persone in fuga alle quali sono negati ingressi legali e sicuri. Reputo importante, conclude il sindaco, il riconoscimento del danno alla comunità isolana per essere stata enormemente prostrata da quella tragedia.